e c'è il momento del talent pool noi il talent in questione ce l'abbiamo in casa e ancora in casa immagino sì oh non va più via non va più via il mitico Valle S che ha vinto appunto un contest che abbiamo fatto un po' di tempo fa nel prevenzione DJ Show sta con noi, lavora con noi, si sta godendo il suo stage che è stato addirittura prolungato perché è molto molto carino ha fatto un bel mini mix con tre tracce prima le ascoltiamo e poi ve le dico ciao 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 Bravo Valesse, in soli tre minuti tre pezzi Michael Feiner con Mantra Tujamo, Drop That Low Steve O'Kee and Hunters con Phil Tra l'altro avrai una bella gatta da pelare te lo dico Valesse nelle prossime settimane veramente un paio di gatte Sì, ti ho trovato un lavoretto che presto ti comunicherà a Micheal Ronchi Ah, vabbè, allora Ovviamente l'ho ritribuito, che te lo dico a fasta a fanno stage, no? Va bene, molto bravo Valesse lo ospiteremo ancora sicuramente perché lui si diletta con questi minimix che tanto piacciono a Provenzano